Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Fondazione CR Trieste Fondazione CR Trieste Fondazione CR Trieste L'associazione, lo sappiamo, è nata per portare avanti il messaggio di coraggio, diciamo così, lanciato anche da Sveva. Voi, se non mi sbaglio, vi siete occupati, diciamo così, o comunque vi siete concentrati soprattutto per le famiglie che hanno i bambini ricoverati al burlo, è corretto? Sì, diciamo che ci concentriamo sulle famiglie con i bambini malati in genere, è chiaro che abbiamo un occhio di riguardo all'oncologia, per chiari motivi, ma perché forse l'oncologia più di altri tipi di malattie sconvolge la vita, sconvolge la normalità, sconvolge tutta la famiglia. Dico sempre che il bambino è malato, ma è tutta la famiglia essere oncologica, però ci sono tanti altri bambini che hanno patologie più o meno gravi ma comunque o invalidanti, oppure comunque croniche che sconvolgono la vita della famiglia. Quindi principalmente siamo qua a Trieste, al burlo, quindi con i bambini della regione e con bambini stranieri che però vengono curati qua. Il burlo ha tanti bambini stranieri, però non più tardi di oggi sono partite delle cose per Torino, abbiamo fatto qualcosa per dei bambini di Firenze, al Meier, a Roma, quindi ci muoviamo dove c'è bisogno. Io trovo che sia straordinario fare in modo che una bambina in questo caso che non c'è più continui in qualche modo, è brutto dire a far parlare di sé, però alla fine è così, grazie all'associazione adesso non arriverò a dire è come averla ancora, perché sarebbe offensivo nei vostri riguardi, però voglio dire è come se quello che gli è accaduto non sia in vano. Sì, ma questo era proprio il senso che ci abbiamo trovato, il dire, credo che noi il giorno che abbiamo scoperto che non c'era niente da fare, io mi ricordo proprio che ho detto questa frase, non può finire così. Sì, e mio marito mi ha guardato e ha detto no, io lo so come finirà, ma dobbiamo trasformare qualcosa, questo amore che noi abbiamo ricevuto, noi abbiamo ricevuto un sostegno incredibile che gli altri bambini non hanno. E' anche questo forse che credo, adesso, ripeto, non mi permetterei mai di ragionare con la vostra testa, però penso che proprio anche tutto quello afflato di solidarietà, simpatia nel senso etimologico del termine, non deve, quando assume determinati contorni, non può essere abbandonato, bisogna in qualche modo sfruttarlo, è brutto, ma bisogna proprio portarlo avanti. Sì, ma era un patrimonio. Vabbè sì, è come dire, un patrimonio. Esatto, noi ci avevamo anche pensato al nome dell'associazione, cioè mettere il nome di nostra figlia nell'associazione, è una cosa emotivamente forte, però io ho detto, Sveva vorrebbe così, io sono sicura, e in più è già conosciuto e quindi possiamo aiutare ancora di più. Cioè abbiamo già… Quello slogan poi funzionava, ha funzionato, chi se posso, chi lo ha inventato? Ma è nato nel mondo del rugby in realtà, tanti pensano nel mondo della palacanestro, invece… Questa credo, ecco, chiedo scusa se questa penso sia un'immagine che non può… Eh, questa, buono, brividi, perché questa coreografia fu fatta dalla curva nord già quando gioveva l'ottava, sarà stato credo maggio, noi siamo entrati il 10 di maggio, questo sarà stato 25 di maggio, cioè proprio appena appena entrati e noi l'abbiamo vista, cioè mio marito era dentro con Sveva e mia figlia l'ha vista in diretta e quindi per lei vedere tutto questo Sveva è stato forte, però sono bambini, quindi non ha percepito il lato drammatico della cosa, ma solo il tifo. Ha detto, ma guarda quanti tifosi c'ho, questo ce lo ricordiamo molto bene, perché i bambini sono meravigliosi in questo, i bambini si sentono privilegiati, no? Dicevi che è nata nel mondo del rugby? Sì, è nata nel mondo del rugby, sì, perché il giorno prima praticamente che noi, sì, penso il giorno prima o uno o due giorni prima che noi insomma iniziassimo tutto il percorso ed è stato un fulmino e c'è il sereno, noi eravamo al campo da rugby, mio marito giocava rugby, giocava rugby con il Venuglia, erano stati promossi in Serie B e giravo un hashtag sui social, hashtag iutifoveniulia, erano state fatte le magliette, erano state, il giorno dopo, ma veramente come un fulmino e c'è il sereno, nel senso che la bambina correva sul campo il giorno prima, siamo stati andati in ospedale, abbiamo avuto la sua notizia e mio marito ha comunicato subito la cosa a uno dei suoi migliori amici che è un compagno di rugby e lui scrisse su una foto del Venuglia a stagliutifo sveva, che tanti non sapevano il perché, perché chiaramente, e da là è partito, è stato ripreso dal mondo del palacanestro e da là è diventato virale poi. Perché poi anche bisogna, io, insomma, è anche stato bello vedere i giocatori, insomma, che hanno preso, insomma, allora, sì, io sono un po', devo dire la verità, io quando queste cose succedono ai bambini, forse perché anch'io ho perso un fratello che fra l'altro non ho mai conosciuto perché è morto a 11 giorni, quindi insomma non so chi fosse, però francamente quando queste cose succedono già è terribile, quando succedono ai bambini c'è un'intervista non con un filosofo, ma con un attore come Tony Curtis, il quale diceva, ma insomma, quando succedono queste cose ai bambini si può dubitare di tutto, insomma, e quindi vabbè, comunque. Allora, voi avete appunto subito incominciato l'attività dell'associazione che però ha dovuto fare subito, evidentemente, i conti con il coronavirus. Come vi siete, perché immagino che per una realtà strutturata da tempo già era difficile perché là bisognava reinventarsi per loro in poco tempo, in pochi giorni, forse voi avete avuto anche la possibilità, essendo appena nati, forse avete avuto anche la possibilità di, come dire, inventare subito qualche cosa di nuovo. Ma allora, io posso dire che l'esperienza oncologica in questo ci ha dato una mano, sembra assurdo, ma la famiglia oncologica vive un lockdown continuo, continuo, ma ben peggiore del lockdown che tutti abbiamo vissuto. E quindi noi a Sveva ci siamo inventati mille cose per poter fare qualcosa in lockdown, no? C'è una sorta di lockdown. E quindi quando ci siamo fermati, certo che abbiamo avuto un po' il senso dell'ingiustizia di dire anche questo, cioè non bastava quello che abbiamo vissuto, anche questo. Però avevamo dalla nostra l'esperienza forte di isolamento sociale, di restrizioni, e quindi sapevamo cosa si può fare e cosa no. Allora, tutta una serie di iniziative che noi avevamo in mente, le abbiamo dovuto mettere in stand-by e le stiamo riprendendo adesso, tipo portare i bambini al cinema, col cinema prenotato solo per loro, no? Ma se i cinema sono chiusi, non si può. Per esempio portarli a fare la gita in barca, ma se sono tutte ferme. Allora ci siamo concentrati più su cose a distanza. Faccio un esempio, il video messaggio del calciatore preferito, la maglietta dello sportivo, il video o la canzone preferita cantata dal tuo cantante preferito. Cose che potevano arrivare al genitore senza incontri, così. Oppure ci siamo inventati dei progetti che poi hanno avuto veramente sempre forti dell'esperienza che abbiamo avuto noi. Per esempio ho questa stanza per amica dove noi addobbiamo la stanza del bambino a tema per un ricovero lungo. Cioè il bambino per un trappianto entra per un mese. Un mese, un mese e mezzo se va bene. Noi con Sveva facevamo i ricoveri a tema. Il tema Harry Potter, il tema... Allora abbiamo cominciato... era grandissima fan di Harry Potter. Che meraviglia secondo me quelle avventure che riescono a stregare i bambini che prendono in mano i libri magari forse per la prima volta solo per seguire le avventure d'estomago eccetera. Noi abbiamo fatto degli esami molto lunghi, delle tac lunghissime scintigrafie di tre ore e mezza dove lei doveva stare immobile. I bambini in genere vengono addormentati, lei no perché era molto brava. E io leggevo Harry Potter vicino. E quindi per me Harry Potter è stato... Ma è stato anche perché siamo riusciti a trasformare la malattia in un gioco. Perché noi abbiamo trasportato il mondo di Harry Potter in ospedale. Quindi tutti i medici erano un personaggio. La malattia era... Anche Beaton? Eh sì sì. La malattia era Voldemort per esempio. Le metastasi erano i mangiamorte. E quindi quando arrivava magari un dottore nuovo, un infermiare nuovo, c'era il gioco di chi è? Chi è? Chi è? E quindi è questo il senso di Tifo Sveva. Cioè farlo vivere come un gioco. Non è un gioco. Lo sappiamo benissimo. È una cosa tragica. Però il bambino in questo senso è molto non malleabile. Non è che lo imbroglie. Il bambino sa benissimo cosa vive. Penso anche che abbia una consapevolezza. Io mi ricordo una volta un'intervista con Lino Banfi che anche lui fa, adesso non so se fa ancora, ma comunque faceva delle attività per i bambini malati. Una volta, è un'intervista che ricordo anche con un certo... dice che aveva parlato con un bambino e poi quando l'ho salutato gli diceva guarda che tornerò a trovarti. e questo bambino ha detto torna presto. E quindi vuol dire che al di là di tutto non li prende in giro. No, no. Non li prende in giro però facendola vivere in maniera diversa li fai sentire privilegiati. Cioè noi abbiamo avuto delle compagnie di classe di Sveva che si collegavano con Sveva. Sveva aveva persi i capelli, quindi avevo un po' di paura di queste videochiamate perché avevo paura delle reazioni dei bambini. Posso dirti che i bambini neanche si accorgevano. Neanche si accorgevano. Sveva non si metteva niente in testa, cappè, niente. I genitori dietro restavano interdetti. E le bambine mi ricordo che dicevano ma veramente hai ricevuto il video di me contro te. Ma beata te, sei proprio fortunata. E io dicevo ma penso a te. Però è così. Cioè lei a momenti si è sentita fortunata e sta nel genitore a fare in modo di assecondare questa cosa anche col cuore straziato perché se no mi dice sono fortunata e no. Però è giusto assecondare secondo me questa cosa senza imbrogliarla. Sveva sapeva tutto quello che doveva fare. Però cercavamo di trovare il lato positivo della situazione. Ed è quello che cerchiamo di fare. Ma questo si può, adesso vediamo se riesco a formulare la domanda in termini, questo si può, virgolette, insegnare? Cioè a dire, oppure perché potrebbe anche, come posso dire, anche essere il caso vostro. Cioè che una serie di ragioni eccetera l'avete affrontata in questo modo senza sapere che dovevate affrontarla così. Io credo sia una cosa naturale. Io e mio marito siamo naturalmente portati a trovare un lato positivo sempre. Quello che però conta tanto e l'abbiamo scoperto adesso è l'esempio. l'esempio perché certi genitori e forse, ne parlavo prima in auto con mio marito, forse la soddisfazione più grande è proprio questa, di genitori che ci hanno detto io a volte mi sento perdere le forze, no? Non sono là, mi viene da piangere, non riesco magari a giocare, io non ho nessuna voglia di giocare. Poi penso a voi, penso a voi che con lo strazio che avete vissuto siete qui a regalare sorrisi e sorridete. E allora mi butto via la disperazione, sorrido e gioco con loro. Ed essere, ci siamo stati definiti da un genitore, siete il nostro faro, è una cosa che a noi ci ha colpito tanto perché non abbiamo la presunzione di insegnare niente a nessuno. Noi volevamo solo mostrare a questi genitori che si può sorridere da dentro, è chiaramente molto più complesso. Guarda, 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 guarda questa, non la vado? Sì. Ma ecco, per esempio, una domanda un po' più, anche per capire un po' come ci si può muovere in questo senso, nel senso che ne parlavamo ieri della necessità, certamente per le persone adulte, di accettare gli screening o anche come per esempio io ripeto sempre nel caso mio, fare anche la palpazione per la donna, anche l'uomo deve assolutamente, soprattutto dopo una certa età, cominciare a fare la palpazione del testicolo, insomma è inutile e ripeto ancora una volta, la si fa semplicemente sotto la doccia, insomma non è che bisogna… uno però, adesso è un po' difficile pensare che la malattia prenda il bambino, cioè la come… non è… ma è perché è innaturale questa cosa, è innaturale ed è questo, per questo tante volte, nello specifico la malattia di sueva, che aveva un neuroblastoma, ma anche le leucemie per esempio, non vengono prese agli esordi perché la donna, l'uomo può avere degli screening, dei… ma un bambino… cioè tante leucemie vengono prese perché un bambino ha un male il braccio, o un male è la gamba, che uno dice stai crescendo, è la classica risposta, e nel 99,9% dei casi è così, è così, il neuroblastoma quasi sempre, a meno che di una botta di fortuna che magari, non so, il bambino cade, lo porti all'ospedale perché ha un taglietto e c'è un medico che dice guarda facciamo un'ecografia e lo vedi, ma se no quando lo becchia già… cioè Zevera in quarto stadio aveva 50 metastasi, ma posso assicurare, il giorno prima lei ha fatto la bavisela, ha corso 10 km e poi è venuto al campo da rugby e ne ha corso altri 5, ed era una bambina che aveva 50 metastasi in corpo, cioè per capirci, e quindi nei bambini purtroppo è molto complicato questa cosa, no? E quindi io per questo tanti adulti dico fate prevenzione perché noi abbiamo possibilità di farla, sui bambini no, cioè oppure lo fai vivere da quando è nato come… ma non è giusto, sono bambini, noi stessi con nostra figlia più piccolina che chiaramente dopo l'esperienza abbiamo passato ti saltano in mente mille pensieri, non ho quella di la controllo di più perché le faccio vivere una vita che non è da bambina, no? A me sì sì. Purtroppo mi ricordo un medico ci ha detto io avevo anche chiesto sai, noi abitiamo Servola, Servola, Ferriera e quindi noi abbiamo pensato, noi stiamo benissimo Servola, però abbiamo pensato ma se poteva essere… mi ricordo che l'oncologa ha fatto un sorriso amaro e mi ha detto, purtroppo nei bambini, a meno che non sei a Hiroshima e ti scopri la bomba atomica in casa, nei bambini non c'è il fattore esterno, lei mi ha detto è un vincere la lotteria al contrario, questo mi ricordo la frase, quindi sì, destino che devi accettare. L'asta, noi abbiamo annunciato, credo l'altro ieri, c'era un servizio di Laura Buccarella che stasera tra l'asta. Eh stasera, stasera, dopo via di qua corro la… L'asta è un evento meraviglioso per cui io pubblicamente ringrazio la Curva Nord perché è partito dalla Curva Nord, o meglio, due anni fa, quando è mancata Sveva, era stata fatta questa partita celebrativa, la squadra aveva cambiato nome, quindi non era solo sulla maglia, è proprio in federazione, la Pellastro Trieste era diventata… Scusa, questo è anche da sottolineare positivamente, perché voi non avete idea, il mondo dello sport può sembrare un mondo privo di lacci, lacciuoli, eccetera, invece c'è alle volte una burocrazia spaventosa nel mondo dello sport, quindi voglio dire, c'è da sottolineare ancora con più e maggiormente il fatto che avevano dato questa possibilità. E quindi la squadra ha giocato come Sveva Trieste, ci sono state fatte queste maglie celebrative con la scritta Sveva che ho visto prima una foto, passare, nell'idea di Gianluca Mauro perché c'era Gianluca Mauro quella volta e tra l'altro il logo, questo cuoricino con la S, questo qua, che è il logo dell'associazione, l'ha creato proprio Gianluca Mauro e Matteo che era il grafico della Pellastro Trieste, che sta a significare S di Sveva ma S di supereroe, vedi che è quasi una super… hanno fatto queste magliette, queste magliette, quell'idea di quella volta era di andare all'asta e in beneficenza, poi dare il ricavato in beneficenza, poi è successo il terremoto Alma, sappiamo tutti, noi con l'associazione siamo andati avanti e credo 3-4 mesi fa ci ha chiamato la Curva Nord e ci ha chiesto ma scusa ma quelle magliette le avete voi a casa? No! Ma dove l'ha dato l'altro? Erano in palazzetto, in un magazzino della Pellastro Trieste e da là è andata questa idea, ma ci tengo a precisare che anche se noi ci siamo dentro, è stata una cosa che stiamo organizzando, abbiamo organizzato, però è partita dalla Curva Nord e che la Pellastro Trieste ha voluto appoggiare al 100% ed è una cosa che a noi commuove sempre perché sono passati due anni, non è appena successo e quindi questo amore che continua è una cosa meravigliosa. Non puoi mai molare. Esatto, esatto, e quindi questa sera al palazzo le 8 in palazzetto ci sarà la presenza sicuramente di Fernandez Cavaliero che sono proprio i nostri padrini putativi, ma anche di, non so, c'è De Polo, c'è Atruia, c'è Nellolaezza, che saranno banditori speciali e verranno battute queste 8 maglie perché erano 9, qua faccio una piccolissima parentesi, erano 9 perché 3 sono andate perse o insomma non so, una noi l'abbiamo voluta donare a un'altra associazione che è un'associazione di Roma perché c'è un ragazzo che collaborava con la giornata Tipo che è questa pagina Facebook molto famosa di Pellacanestro che è venuto a mancare qualche mese fa per una patologia oncologica e mio marito Paolo ha avuto l'idea di, siccome lui era un grossissimo collezionista di maglie, ma grossissimo, dalle maglie non so, da Jordan a il giocatore più infimo della serie B, cioè proprio un grande collezionista, poi l'ho detto ma questa è una maglia unica, cioè importante, è chiaro che per noi è importante ma magari a Bologna è meno importante, però quindi l'ho voluta donare al fratello di questo ragazzo che è scomparso, il fratello collabora con un'associazione di basket d'inclusione e si è fatto un'asta solo online che si chiudeva questa notte, mezzanotte e incredibilmente sono stati raccolti 6 mila euro che questa sera consegneremo maglia e assegno a quest'altra associazione, quindi è una cosa che ci riempie d'orgoglio perché le altre vengono battute stasera, ci sarà anche un'asta online per chi non ha il Green Pass, c'è anche qualcuno fuori Trieste che ci ha chiesto, quindi c'è la possibilità di una diretta Facebook per fare le offerte, è in presenza e l'intero ricavato andrà a Io Tifo Sveva a finanziare la nostra attività. Una cosa veramente bellissima, adesso per esempio che pian piano si sta tornando ad una normalità controllata, insomma chiamiamola come vogliamo, dove vi concentrerete? Siamo proprio felici perché finalmente siamo riusciti a fare quello che avevamo in mente un po', quindi restituire un po' di normalità a questi bambini, non è una normalità al 100%, quando tu porti un bambino al cinema ed è solo, non è una normalità, ma il bambino vede l'alleato positivo, vede se sono al cinema e quindi... Faccio una battuta perché vedo che non è che sia una situazione particolare... Esatto, ormai... Ma pure prima... Esatto, esatto, però qua prendete una sala proprio per sicurezza, no? Tra l'altro ultimamente abbiamo mandato un bambino a Udine, un bambino a Pordenone, sono stati tutti gentilissimi, le persone del cinema, a Trieste lo facciamo, lo abbiamo fatto più volte, domenica della Barcolana, questo non è prima, sono solo le famiglie che parteciperanno, ci sarà un'uscita con i gommoni per i bambini, il giorno della Barcolana, per alcuni bambini che hanno determinate caratteristiche chiaramente, li portiamo a vedere la Barcolana dal mare, insomma, e sono bambini che qualcuno è di Trieste, qualcuno no, quindi penso sarà un'esperienza bella, perché sono bambini che sono chiusi in casa, prima sono stati chiusi in casa dalla malattia e poi magari nel momento che potevano magari uscire poco, ma almeno un pochino, è arrivato il lockdown, quindi poverini, e quindi possono uscire adesso, allora li portiamo a fare questa gita e quindi... Scusa che pesa, questa ormai mi fisso, che film li portate a vedere? Ma allora, sì, sì, in realtà sì, un nostro piccolino che è andato a Pordenone ha visto Space Jam, che era il secondo giorno di uscita, ma lui, poverino, perché lui lotta da ormai da tre anni, non era mai andato al cinema, mai, non sapeva neanche cosa fosse, e quindi potevamo veramente mostrare qualsiasi film. Mi immagino quando avrà visto questo film. Sì, sì, poi hanno fatto i pop corn, poi il personale del cinema ha portato una borsa, e questo non sapevamo neanche noi, di regali della Warner Bros, che doveva essere associata al film, e lui era come matto, lui era come matto. Ma è bello... Il papà ha detto che non ha respirato, ha detto per tutte le... Ma è bello sapere che c'è tanta gente buona, insomma, che poi... Sì, sì. Che dà una mano, che magari... Che dà una mano anche solo dicendo sì, poi non è... Sì, sì, ma in un mondo che urla adesso, no? C'è questo mondo... Sui social poi questo è drammatico, secondo me, ma in un mondo che urla e in un giornalismo di massa, parlo, che magari accentua questi atteggiamenti, o qualche politico anche che non ha la responsabilità di dire, rivesto un certo ruolo, me ne sto buono, copre tutta un oceano di persone meravigliose. Sì, questo è... Meravigliose. Noi, non c'è stata una volta, credo, che noi non ci siamo approcciati, peraltro anche con un discorso economico, dicendo copriamo tutte le spese, mi dici, guarda, a me interessa che il cinema sia vuoto, tu mi chiedi mille euro, va bene, però deve essere vuoto, cioè la sicurezza prima di tutto, non c'è stata una volta che uno non ci abbia detto di no, o che non ci è venuto incontro, o che non ci ha detto offriamo noi, per dire, no? Ma anche dai piccolissimi gesti, sai? Sì, sì, immagino che poi tutto fa... Sì, sì, ex maestre di scuola di Sveva, che non vediamo più da anni, che ci portano magari i cinque euro, ma è un mondo meraviglioso. Io ho molta fiducia, guarda, in realtà... Sì, sì, e anche nelle giovani generazioni, tra l'altro volevo ricordare, perché siamo già in chiusura, perché oggi dobbiamo, devo fare un po' i giochi di tre, è un'iniziativa non vostra, comunque c'è questa cosa bellissima che io ricordo ogni volta che posso, della scuola al burlo, che è qualcosa di incredibile, perché consente intanto di avere anche lì una certa quale normalità, ma poi quando, come in alcuni casi, le persone poi stanno bene, guariscono, eccetera, non perdono l'anno scolastico, non perdono assolutamente niente. Certo, dipende anche dalla patologia, perché è anche vero questo, però è un'iniziativa che io non mi stoncherò mai di sottolineare ogni volta che posso, perché è assolutamente... Eh, ma noi abbiamo deciso di appoggiarla per questo, sai, perché ha una valenza terapeutica che è incredibile, incredibile, io dico sempre, il sorriso, la scuola, non cura il cancro, non cura, ma ti fa lottare in maniera completamente diversa, e se tu sei forte, come dire, emotivamente, lotti in un'altra maniera, lotti in un'altra maniera, e la scuola in ospedale è incredibile. È una romana, io quando mi hanno parlato non lo sapevo, poi invece sono venuto a saperlo anche per vie terze, e devo dire la verità, che magari più avanti torneremo a parlarne. Allora, io ringrazio Marta Bassi, che è la Presidente dell'Associazione Hashtag Io Ti Fosdeva, complimenti per tutto, buon lavoro, poi dopo ogni tanto tornate pure a trovarci, così parliamo ancora, e insomma, poi sono anche molto contento di aver potuto parlare anche di quest'asta di stasera, perché non conoscevo tutte quante le, diciamo così, i dietro le quinte. Eh sì, ma aasta che c'è stasera, perché oggi sono due anni che Sveva non c'è più, e quindi la Curva Nord ha voluto celebrare, siccome noi vogliamo mettere vita in questo giorno, l'anno scorso abbiamo puntato l'albero, e quest'anno facciamo l'asta per i bambini. Sì, sì, quindi non è casuale. Grazie ancora, eh? Grazie, grazie mille. Pubblicità, poi c'è con noi Ariella Ciuc. Eccoci, seconda parte di Trieste in diretta, come annunciato, è tornato a trovare, era un po' di tempo che non ci vedevamo. Ariella Ciuc, presidente di Pillole di lunga vita attiva, domani scatta la nuova stagione. Sì, domani, il primo ottobre partono i nuovi. È già il primo ottobre, l'estate sta finendo. Una volta si incominciava a scuola il primo ottobre, eravamo i Remigini, ci chiamavano per... Com'è? Perché è San Remigio, allora eravamo i Remigini. Ok, io non avevo mai sentito. Penso che ne ricordo solo io. Spero tu, ma credo. Perché anche parlando con i miei compagni di classe, ma... No, tu. I Remigini. Allora, novità? Quali sono? La novità è che ripartiamo alla grande e tutti in piscina con il Green Pass e quindi i corsi aperti con più tranquillità, perché l'anno scorso, per l'anno scorso avevamo iniziato e poi tutto è stato bloccato. Allora, ne ho già parlato anche con altre persone che sono state nostre ospiti e poi dopo sai, ognuno realizza certe cose se c'è dentro più o meno. Tutti quelli con cui io ho parlato mi hanno detto che il momento peggiore del 2020 non è stato tanto dover chiudere la prima volta di brutto con l'insorgere. E' stato quando si era incominciato ad aprire qualche cosa, si era incominciato ad organizzare e abbiamo dovuto chiudere tutto di nuovo a ottobre dello scorso anno. Sì, perché si pensava veramente che fosse over, che fosse finita, invece no, abbiamo poi effettivamente di nuovo a casa. Devo dire che noi abbiamo, lo dico sempre, un gruppo, un'associazione veramente meravigliosa, un gruppo di associati, adesso saremo circa 80-90, che... Che è un bel numero anche. Un bel numero, è un bel numero, che partecipano a tutte le iniziative che vengono proposte e l'anno scorso me l'avevamo già raccontato, no? Noi avevamo fatto, ci ritrovavamo nello spazio Google Meet e ci siamo raccontati, è stato molto bello. Ma qua adesso riprendiamo con il corso di nuoto lento, che è un corso speciale, è un corso direi quasi unico in Italia, perché molte persone, adulte, grandi, nuotano, fanno i master, fanno gare. Questo è un corso sviluppato e mirato per persone che vogliono nuotare per sentirsi bene, per stare bene. Quindi veramente l'obiettivo è quello di stare bene, la ricerca di un benessere. Quindi questo corso ha delle caratteristiche un po' particolari. Intanto perché si rivolge ad un target omogeneo, che è quello degli over 60, o diciamo meglio dei 60 dintorni. Poi il rapporto con gli istruttori, un rapporto particolare, un rapporto da adulto ad adulto. Che deve essere qualcosa di... Che deve essere una cosa speciale, perché è un pubblico di persone che sono grandi. Quindi fino a adesso, sostanzialmente, i corsi di nuoto, parliamo dei corsi di nuoto, perché di questo, si venivano adattati agli adulti, agli anziani, i corsi che si propongono ai bambini, perché i corsi soprattutto... Quello è... E la formazione viene fatta. E quindi qualche volta scappa un atteggiamento anche paternalistico nei confronti, no? Andiamo bella o cose. È importante invece che il rapporto sia paritario, con ruoli diversi, è un rapporto di adulto ad adulto. È importante che si crei un clima di reciproco rispetto. E poi, terza caratteristica, è importante che il corso sia, e il corso è, molto vario. Per cui tu, non c'è un obiettivo da raggiungere, non devi fare un certo numero di chilometri o di vasche perché in preparazione di un obiettivo o di una tonicità da raggiungere, l'obiettivo è quello di... Mi interrompo un secondo perché ci sono... Questo è un anno del 2019, diciamolo. Questo è un evento, è la conclusione del corso del 2019. E come vedi qua, tutte le persone hanno questi numeroni... Che sono l'età. Che sono l'età. Quindi in qualche modo era... Era un age pride. Ah, c'era anche Fantoni. Sì, sì, tante persone che conosciamo, molto disponibili, molto... Ed è questo evento che si fa alla fine dell'estate, che si chiude con una gara non competitiva. Sei curioso, guardi e cerchi di... No, guardavo, prima di dire, anche se qualcuno è conosco. Sì, sì, ma sono tante persone che conosci. E sei imperato come numero. Qui ci sono generazioni diverse, questo signore aveva 85 anni. Insomma, è un'affermazione di... Questa è la Uxtec? Eh, beh sì, lei è un po' più... Lei è un po' più giovane, ma... Questa è la miscaggiante. Oddio, adesso... Così ci indicavo... Perché lui pensa che noi due siamo a casa e poi stiamo prendendo il caffè. Non è così. Insomma, quindi questo... Si vede da... Tutti sono schierati all'inizio, tutte le squadre. Si vede da queste foto il clima che c'è, che si crea in questo corso. È un clima... Posso dire una cosa, scusa, Arianna? Sì, sì. Perché com'è bello vedere le rughe sui volti della gente. Mamma mia, cioè... Questo era un istruttore più giovane. Devo dire la verità, rispetto a quello che purtroppo la televisione e il cinema ci propongono, dove... Ma, santo paradiso, com'è... Oddio, certo, un viso giovane e fresco è più bello di un viso... Sì, un viso giovane e fresco, però... Sì, però è, come dire, la vita, insomma, va accettato. È una cosa bellissima. E poi è importante quello che tu sei, ma davvero è importante quello che tu sei, la persona. Io non vedo l'ora di aver rughe. Ah, beh. Insomma... Bucciato. Bucciato. Comunque, tornando al corso, è un corso speciale ed è una novità, è una novità in Italia. Ed è proprio per questo questo progetto fa parte di due progetti europei. Non è un caso, perché in qualche modo è innovativo, è una novità. Questo strutturare, disegnare un corso sulle esigenze di uno specifico target di persone adulte di... Come si articola? C'è una lezione ogni tot? Come funziona da questo punto di vista? All'inizio si fa una prova per un po' stabilire il livello, perché è importante ognuno... Siccome non c'è un obiettivo specifico, altro che quello del benessere, ognuno un po'... E' importante che anche nuoti al suo passo. Non dobbiamo rincorrere nessuno, dimostrare niente al suo passo. Ed è vero che i passi sono diversi. Qualcuno è più competente, alcuni meno, qualcuno è più veloce, alcuni meno. Per cui sostanzialmente si fa un test d'ingresso e si dividono in gruppi in tre. Diciamo, principianti, intermedi e avanzati. Attualmente abbiamo già 52 iscritti. I 52 iscritti, lo riporto dagli anni scorsi, sono persone che sono sempre presenti. E' veramente un corso per cui uno inizia e finisce, frequenta tutto l'anno. Sono divisi in tre livelli e quest'anno vorremmo introdurre una... Sì, qua sono tre generazioni, infatti, la nonna e la Susanna. E Susanna è stata... Io ho fatto l'insegnante di inglese, come tu sai. E Susanna è stata mia... Qual'era? Sì, sì, sì. È stata mia studentessa e invece lì c'è la mia nipote. Mi sono persa il filo. No, dicevi che appunto ci sono questi fedelissimi, insomma. Ma tutti sono fedelissimi, tutti sono fedelissimi e poi per passaparola adesso abbiamo dieci nuove persone che hanno fatto il test la scorsa settimana e che partiranno da domani. Ah sì, siccome non ci fermiamo mai, allora quest'anno... introdurre un corso, più che un corso, degli elementi di mindfulness nel nuoto. e quindi andare verso un mindful swimming. Tu sai che la mindfulness è una pratica... Cioè questo sarebbe... E non è traducibile, lo usiamo anche in italiano, mindfulness. Consapevolezza, no? Sì, sì, sì. È una ricerca di consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni, di sé. E se tu ci pensi in fondo, quando tu sei nuoti, e soprattutto in piscina, sei immerso in un liquido che in qualche modo da lì veniamo, no? Dalla pancia della mamma, dal liquido amniotico. Sei immerso in questo liquido azzurro, tu da solo con questa striscia sul fondo. Ed è un ambiente che ben si confà a una introspezione, a un chiudere... Perché sei ovattato, rispecchi. Sei ovattato, sei in un bossolo. E quindi in qualche modo è particolarmente adatto, credo, a provare questa pratica di mindfulness. A che scopo? Intanto per essere consapevoli del proprio corpo, dei movimenti. E quindi questo è un addestramento ad essere anche consapevoli delle proprie emozioni. E in qualche modo riuscire ad oggettivarle. E alla bisogna, qualche volta, distanziarle, renderne misura. Certo, questo è un lavoro di progressione, però inserire un elemento di mindfulness ci sembrava particolarmente adatto in questa esperienza di nuoto lungo e lento. E chi lo fa? Beh, naturalmente ci siamo rivolti a dei professionisti. Non è iniziato. Questo è un progetto che partirà a novembre, a ottobre. Sì, partirà presto. Partirà almeno un primo corso pilota, perché tutto viene fatto anche in corsia. A parte adesso in corsia comunque il massimo di persone sono sette persone. Tutto, sono sempre piccoli gruppi. E quindi vi è più questo, va così pensato e strutturato su un piccolo gruppo. E quindi ci siamo rivolti alla scuola di mindfulness Trieste, abbiamo preso contatti e quindi con un docente della scuola inizieremo una serie di... E questa è già sott'acqua. Sì. Quella è sempre. Sì. Una serie di lezioni a secco per così imparare ad entrare dentro se stessi e poi applicarle durante una frazione, perché è una frazione dell'ora. Perché intanto molti chiedono, ed è vero, la piscina, noi facciamo i corsi alla piscina Bruno Bianchi. La piscina Bruno Bianchi è una piscina olimpionica, è una piscina che serve soprattutto per gli allenamenti. Quindi certamente non è... quando tu fai un salto e entri in piscina non hai quel tempo che ritrovi nelle piscine invece termali o così di altro tipo. Il primo momento non è una sensazione piacevole, ma ti assicuro che è funzionale a un'attività motorea, in movimento. Quindi siccome tu sei sempre in movimento, assolutamente non si sente freddo. Ma se prolunghi il discorso dell'elemento di lento, di consapevolezza, deve essere accorciato, deve essere fatto per una parte della lezione. Un'ora sarebbe eccessivo, sarebbe troppo, effettivamente allora sì che sarà freddo. Comunque vedremo i risultati. Magari la prossima volta, oddio, la prossima volta che ci vediamo, porta anche un'altra persona. Sì, certo. Adesso un po' con il nuovo studio, si può stare, si possono avere anche due persone in presenza, così anche... Sì, possiamo... sì, sì. No, no, grazie, sicuramente. Poi spiega le cose le tocca, insomma. No. Discutevamo un po' adesso con tutti quanti i nostri ospiti e dovremo anche, dovrò anche darmi uno stop perché sennò va a finire che sempre degli stessi argomenti si parla. Però, voglio dire, laddove l'altro anno, per esempio, quando si parlava del ritorno, della possibilità di un ritorno alla normalità, eccetera, veniva visto in un certo modo come se fosse qualcosa di particolarmente catartico. E forse proprio per questo anche il dover chiudere di nuovo può aver scombussolato parecchi. Adesso mi sembra che a una parvenza, mettiamola così, di normalità, ci si arriva, forse con maggiore consapevolezza e più attenzione, io non voglio fare un discorso di vaccini, non vaccini, perché insomma non voglio addentrarmi in queste cose. Però mi par di capire che non c'è stato ordinato di tornare alla normalità come forse ci era stato ordinato la scorsa estate e quindi c'è più possibilità di programmare. Sì, penso di sì. Se io penso alla nostra associazione, si è svolto tutto in modo assolutamente normale. Ci sono anche dei controlli per entrare nella piscina, ma non c'è stato nessun problema, tutti forse si sentono anche al sicuro. Stiamo sperando che pian piano ci stiamo impegnando tutti per uscirne in qualche modo. Anche per tornare alle abitudini, anche, diciamo la verità, anche per tornare delle volte a quel minimo di superfluo che nella vita è necessario, insomma, perché diciamoci la verità, non è che non siamo tutti calvinisti. Assolutamente. Un po', poi secondo me calvinisti sono quelli che magari fanno ancora più casino quando si mettono, insomma. Allora, questa volta non posso non chiedere di libri o altro, sennò perché ti sei portata una lista. No, perché so. La mia crudeltà perché... No, no, no. Posso solo dire che queste bellissime foto sono state fatte da John Gubertini. Ah, ok. Ecco, perché ha fatto un benissimo lavoro. E si riferiscono al 2019, questo spiega anche perché... Sì, sì, è giusto riconoscerlo, no? Dunque, allora, oltre a seguire la... Sì, cosa sto leggendo? Sì, sì, questa è la domanda che... Cosa ci piace leggere, cosa ci piace vedere al cinema e alla televisione? Allora, io ho appena finito il libro Clara e il sole di Ishiguro. L'autore di Quel che resta del giorno. Di Quel che resta del giorno, che è un giapponese, incredibile, però è... Che lo scrive in inglese. British di lui, sembrerebbe, no? Sì, sì. Invece scrive molto bene. È un libro sull'intelligenza artificiale questa volta. Però direi che in tutti i suoi libri, o almeno in quelli che ho letto io... In quelli più recenti c'è un, come dire, ha virato verso questa realtà, vorrebbe quasi da dire da fantascienza da camera sotto certi aspetti. Sì, ma anche quello prima, quello per cui ha vinto, credo, il Nobel, che era sulla donazione, donazione, coatta degli organi. Questi ragazzi vivevano nella magnifica campagna inglese, in un college, e poi andavano a donare, aspettavano, perché venivano educati così, a donare i propri organi. C'è un passaggio anche... Questo era molto pesante, questo è meno, ma la nota dominante è sempre una nota molto melanconica. Sì. E l'amore è centrale, ma l'amore è l'amicizia sopra. Non esistono scene di sesso nei suoi... Io non le ho lette, né in questo, né in quello precedente. Però c'è tanto amore e tanta amicizia fra le persone. Un libro che a me è piaciuto molto, molto bello. E in Audi, se non mi sbaglio, perché... Ma devo dire che questo lo leggo in inglese, e lo leggo, allora, leggo in inglese i libri sul Kindle. Credo sia in Audi, perché in Italia pubblica per Einaudi. Sì, e invece serie o film? Ah, e serie? Film o film, siamo tornati al cinema. Questo è buono. Effettivamente il cinema, insomma, le ore in cui andiamo noi, non è affollato. Siamo andati a vedere Dune. Ah! Noi siamo un po' appassionati di fantascienza. Quello è un tour de force, non indifferente per chi appunto non ama molto. E com'è? Beh, a noi è piaciuto. Non è come il libro. Il libro è visionario, il libro crea questi mondi. È fantastico, è ineguagliabile. Però la critica non è stata molto tenera. No, la critica è stata piuttosto... Devo dire che noi l'abbiamo apprezzato. Forse eccessivamente lungo, poteva sempre, ma spesso i registi potrebbero risparmiarsi delle parti. Io dico sempre, tutto, anche le cose di Billy Wilder, dovrebbero durare dieci minuti di meno. Sì, sì. Un po' meno... Sì. E serie e tv? E serie e tv, voglio citarne due, perché anche questo è invecchiamento attivo, perché in qualche modo invecchiare bene vuol dire non perdere la curiosità, la voglia di vedere le cose, continuare, no, a essere interessati, e quindi a leggere, andare al cinema, e così partecipare alla vita. Allora, mi è piaciuta molto su Sky Gold Digger. I cercatori d'oro? No, sì. Ah, lo è serio, il vado per tono. Sì, 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 è vero. È vero, in realtà è un serial molto bello, molto ben fatto. Una donna di 60 anni che apre una relazione con un giovane uomo di 35. Ah, sono... Con una meravigliosa... Giulia Ormond, chi? Come si chiama? Giulia Ormond. Ormond, sì. Che è questa donna... Io guardavo questo viso, perché lei è invecchiata, e ha preso molto peso, però rimane questo viso meraviglioso, e cercavo di ricordare, ma non riuscivo. E lei ha fatto Sabrina. Ha fatto Sabrina, il remake... Il remake di Sabrina, questo viso è splendida. E comunque è splendida. Quindi la famiglia, dunque lei è divorziata, il marito ha un'altra compagna più giovane, e questo è naturale. Ma quando lei incontra questo giovinotto, e apre una relazione... Questo scombussolato... Assolutamente. E' incomprensibile. I figli hanno la stessa età, o di più di questo possibile campagno, che tutti pensano che... Lei è una donna molto ricca, che in realtà sta con lei per i soldi, perché si vogliono sposare. E' interessante. E l'altra... è una donna che fa la ladra. E' una donna che fa la ladra. E' di professione ladra. Recupera, sempre su scali se riesci. Ha vinto il premio come miglior attrice per... Il premio Emmy come miglior attrice. Delitti... Omicidio a Easton. Certo, ho visto, bellissimo. Meraviglioso. La Winslet è assolutamente meravigliosa. Ma lei è la poliziotta là. Lei è la poliziotta. Anche lei che si accetta come una donna forte, sicura. Meraviglioso, un bellissimo film. Prima che chiudi, ricordiamo, se qualcuno fosse interessato a iscriversi, dunque il sito è lungavitattiva, c'è una mail info lungavitattiva.it oppure si può telefonare alla reception della piscina e chiedere del corso di nuoto lento e noi vi aspettiamo. Allora, la prossima volta aspetto anche un'altra persona. Col Mindful. Sì, sì, con piacere. Grazie. Di parlare anche con quest'altra persona. Grazie davvero a Dariela Ciuc per essere tornata a trovarci. Vi ricordo alle 19.30 il telegiornale e poi anche alle 21 l'appuntamento con Ring. Grazie a tutti. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Buonasera ormai. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.